Sconfitta la Juventus per 2 a 1 in Ungheria dal Rabaito, passa però il turno in Coppa delle Coppe. Abbiamo visto il primo gol, cioè l'autogol di Furino. I primi 20-25 minuti della squadra juventina sono stati disastrosi, avevano veramente fatto temere il peggio tracollo. Rivediamo l'autogol, dopo c'era stato anche un passaggio indietro avventatissimo di Scirea che aveva costretto Zoff a deviare in corner. E dopo l'occasione appunto del tiro di Scirea che aveva costretto il portiere Juventino al salvataggio per evitare il secondo autogol, è venuto invece il secondo gol, mentre qui le immagini si riferiscono ancora all'autogol di Furino. E qui invece siamo proprio ai preliminari del calcio di punizione, da cui scaturisce al ventitresimo del primo tempo sempre il gol di Poschic che porta il risultato sul 2 a 0. Vale a dire, dopo 23 minuti di gioco il Rabaito ha pareggiato il conto con la Juventus che all'andata aveva vinto per 2 a 0 con i gol di Fanna e di Cabrini. Ecco il colpo di testa vincente di Poschic, Zoff è battuto per la seconda volta dopo 23 minuti, Rabaito 2, Juventus 0, ma soprattutto, a parte il risultato, c'è la dimostrazione di un pessimo gioco da parte della squadra juventina che sembra veramente in balia. Invece il secondo gol è una scossa per la squadra juventina, la formazione di Trapattoni riesce a organizzarsi, fa leva sull'esperienza dei tanti e tanti suoi nazionali e soprattutto sulla grande vitalità di Pietro Fanna che è il grande protagonista, non a caso l'avete visto in testa la classifica del Bravo 80, i punti conquistati si può dire quasi tutti questa sera perché la prestazione di Fanna è stata eccellente. Qui vediamo Fanna, ancora protagonista involontario, dello scontro con il capitano Posch Gai che viene espulso. E anche questa è forse una svolta importante dell'incontro, la squadra del Rabaito si vede frenare da questa espulsione decretata dall'arbitro spagnolo Guruseta, si vede frenare il suo impulso, la sua corsa al terzo gol che avrebbe ribaltato il risultato dell'andata e la Juventus invece che già aveva dato dei segni di assestamento del gioco, soprattutto di frenata di quel precipizio in cui sembrava essersi infilata nella parte iniziale, la Juventus è riuscita a realizzare anche il gol che ha consentito alla squadra di Trapattoni di ammorbidire la sconfitta e di superare il turno. Ecco una rimessa in gioco che viene operata da Gentile. E ancora Fanna, sempre grande ispiratore di tutte quante le azioni. Dalla parte opposta arriva Cucuretto, palo, ma Causio è pronto e segna, battendo il portiere ungherese Palla. 2 a 1, è il settimo minuto del secondo tempo, con questo gol la Juventus supera il turno in Coppa delle Coppe, entra negli ottavi di finale. Rivediamo l'azione, è sempre Fanna che ispira tutte le migliori manovre juventine dalla parte opposta arriva senza troppa coordinazione Cucuretto, però colpisce ugualmente la palla, colpisce il palo sulla respinta, Causio è più pronto di tutti. 2 a 1, la Juventus passa il turno.